ma sì che il giorno dopo è sempre più bello certo che è sempre più bello e qualcuno dice ma marco ma sei impazzito non abbiamo mica vinto non abbiamo vinto però a mente fredda si riesce a analizzare meglio quello che è successo no si si vede si vedono meglio le cose secondo me e se persino luca serafini no che saluto caldamento ho avuto qualche collaborazione con lui grande persona ciao luca se persino luca serafini dice non ci ho capito niente di questa partita ho detto perché dovrei capirci qualcosa io cioè onestamente è difficile di riuscire a analizzare questa partita non è per nulla facile poi mi ha fatto ridere anche luca mastrangelo che nella clip che ha fatto ieri sera io lo guardavo intanto perché mi fa ridere diceva già la seconda volta che il milan ci fa questo regalo e noi e non ne approfittiamo io dico poi il contrario lucchino io dico noi toppiamo ma è già la seconda volta che voi ci fate il regalo anche voi quindi siamo sempre lì no sullo stesso livello questo campionato è lo scudetto di nessuno ancora in realtà perché è una situazione continuamente in evoluzione si capisce poco e niente bene torniamo alla partita di ieri sera io ho detto che questa partita di ieri sera è stata speculare a quella della salernitana era speculare a quella fatta con la salernitana perché mancava il gioco mancavano le idee mancavano le palle in attacco mancavano i giocatori sostanzialmente ragazzi mancavano i giocatori in campo il problema era questo fondamentalmente non ci avevano voglia di fare manca l'energia manca l'idea di gioco e chi deve darle queste cose devo darle io dovete darle voi no deve darle all'allenatore la partita era speculare a quella con la salernitana abbiamo pareggiato due partite con la quart'ultima e l'ultima in classifica due partite pareggiate abbiamo preso due punti in due partite quando a quest'ora potevamo avere quattro punti più è vero che l'udinesi è un pochino più difficile squadra più ostica con cui noi notoriamente abbiamo più difficoltà a fare la partita però non era per niente così inabordabile perché anche ieri sera il possesso di palla ragazzi è stato 65 68 per cento come con la salernitana e quando è un possesso di palla così alto e hai conclusioni che rasentano lo zero ma c'è un problema lì davanti ma continuiamo a dirlo questo c'è un grosso problema c'è un grosso grosso problema quando continua a fare scusate giocare un che sì che sì che è l'ombra di quello dell'anno scorso che sembra il primo che sia arrivato quando aveva grosse difficoltà ma questa volta non è per inserimento questa volta perché questo non ha voglia di fare passatemi il termine più un cazzo questo è diventato uno che si è messo sotto la naftalina e si è messo lì a conservarsi perché sta già pensando la sua prossima squadra quello sta facendo che sì ragazzi questo era buttare in tribuna è da mettere in tribuna e dici marco allora chi ci metti se manca non me ne frega un cacchio mi arrangio eh perché tanto tanto ragazzi se tolgo che sì che fa cagare così ma metto anche che ne so uno a caso il figlio di maldini mediana bene o male fa le stesse cose un che sì che gioca così è vero o no non siete d'accordo è quello che penso quello che penso sinceramente ma te ne va in tribuna ci hai preso per il culo ci hai preso per il culo stai giocando veramente senza rispetto per il milan te ne vai in tribuna o addirittura non ti convoco neanche stai a casa state a casa che porti sfiga via e questo ti metto a pensare e poi c'è il problema pioli perché pioli pioli purtroppo ragazzi ha grosse difficoltà pioli è in panico dobbiamo dire la verità pioli è in panico perché non sa più come sistemare queste partite ma dall'altra parte dall'altro punto di vista pioli non ha mai avuto il coraggio di cambiare né il modulo in corsa né il modulo iniziale a me sto 4 3 2 1 mi ha rotto le palle il 4 3 2 1 mi ha rotto le palle ok ieri sera ieri sera gli errori principali Giroud aveva grosse difficoltà a ricevere rifornimenti di palle aveva bisogno di un appoggio non togli Rebic per Giroud e continua a lasciare il 4 3 2 1 sei solo 1 a 1 metti Rebic a fianco Giroud li metti vicino così si danno supporto vicino perché Rebic anche lui è stato scandaloso come con la sarà la metà vergognoso non ne voglio parlare veramente li metti a fianco non togli Brian Diaz l'85esimo che per quanto è stato ennesimamente penoso passatemi il termine ennesimamente non so dove cazzo ho tirato fuori per quante volte per quanto è stato ancora penoso lo togli l'85esimo per mettere dentro il figlio di Maldini e ribadisco il concetto il figlio di Maldini che cazzo serve 5 minuti dalla fine cosa pensi di cambiare e poi pianta vuoi provare a mettere Messias in mezzo vuoi provare a mettere Messias trequartista perché sono sicuro e poi forse sarete sicuri anche voi che quello è il suo ruolo più adatto Messias sulla fascia destra non sta non va bene non sta soffrendo su quella fascia destra ma soprattutto devi avere il coraggio di cambiare sto cavolo di modulo perché basta si è fossilizzato e ormai per le altre squadre noi siamo trasparenti ci vedono quando scendono in campo ah il Milan gioca così va bene ragazzi è fatto non c'è problema la portiamo a casa un punto lo portiamo a casa non vi preoccupate questo succede tornando a Maldini Maldini ieri sera dopo la partita anche a causa del fino adesso io non ne ho parlato del gol di mano perché non me ne frega un cazzo non mi attacco gli alibi io voglio che la mia squadra vinca vinca al di là degli alibi degli errori che possono capitare perché se un errore condiziona la partita allora vuol dire che tu quella partita non l'hai giocata come dovevi giocarla perché se il Milan giocava da Milan ed eravamo sul 3 a 0 anche se mi segnava di che ne so di due indici con le mani in porta io lo dava non mi interessava ho vinto 3 a 1 qui si parla di partite in cui sei in sofferenza e che l'altra squadra pareggia in modo illegale chiamiamolo e la porta a casa quindi Maldini Maldini ha avuto uno sfogo complice anche del fatto di questo di questo pareggio di mano del giocatore dell'udinese dicendo non si può continuare a mandare arbitri esordienti ad arbitrare a San Siro perché non è giusto perché l'atmosfera perché la pressione perché eccetera eccetera io voglio dire solo una cosa allora io non voglio Maldini che diventi anche tu uno spiazze perché non è il nostro stile non è lo stile Milan l'essere uno spiazze lo stile Milan è un altro lo stile Milan è va bene andiamo avanti non c'è problema quello che mi ha che mi ha colpito di più non è tanto come dicono ah finalmente Maldini si è fatto sentire finalmente ha detto ha aperto la buca contro il no ragazzi secondo me quello è stato semplicemente un po' pararsi il culo per l'ennesima prestazione deludente doveva trovare qualcosa da dire non poteva non dire niente e quindi ha tirato fuori quello perché cos'è una lamentela quella perché ormai quello che ha fatto è fatto ragazzi quando perdi o pregi una partita per un errore arbitrale che mi ricordo in memoria non è mai stata rifatta ormai è andata quella nello stile Milan c'è vabbè è successo purtroppo si può sbagliare andiamo avanti colpa nostra che stiamo peccando nel gioco abbiamo dei problemi dobbiamo migliorare quello è ma quando comincia a lamentarti degli arbitri e delle cose vuol dire che qualcosa non torna qualcosa non torna ultimo appunto Marco Lazicci non l'abbiamo preso per spolverare Milanello quando gli altri vanno a giocare la partita a spolverare il soprammobile a passare il pronto sui mobili no Marco Lazicci è stato preso per giocare almeno questa è l'idea a meno che Pioli non te l'hanno preso ma a te ti fa schifo e non ti piace perché continua a dire che l'allenamento fa cose straordinarie ma poi non lo porti mai non è vero che non ha ritmo partita perché ritmo partita fino al giorno prima che lo compravi lui giocava lì e non è che adesso lì giocano a 2 all'ora e qua giochi a 100 all'ora tutt'altro io non vedo mai quasi mai squadre che comprano un giocatore e per un mese un mese e mezzo non lo fanno giocare ma che cazzo ha in testa i criceti Pioli cioè veramente portalo può fare peggio di Giroud può fare peggio di Rebic può fare peggio di Brahimovic che è tanto in panchina non credo un po' di coraggio e avanti così ragazzi comunque sempre forza Milan noi ci sentiamo domani che c'è un'altra bella chicca adios grazie a tutti